Bene, ciao a tutti ragazzi! Oggi facciamo un video particolare perché mi è arrivato un commento di un utente che tra l'altro è uno dei più affezionati al canale YouTube, che mi ha chiesto però una cosa che è estremamente importante mi ha fatto riflettere su questo argomento e ho deciso addirittura di farci un video perché io ho risposto chiaramente perché rispondo a tutti nei commenti dei miei video YouTube anche perché ancora sono pochi quindi riesco ragazzi però l'argomento è estremamente interessante, quindi ho detto facciamo un video per parlare di questa cosa l'argomento di oggi sarà il dilemma dell'holder sì, il dilemma dell'holder è un argomento estremamente importante ma in realtà l'ho inventato io questo dilemma ragazzi è una mia creazione, è una mia idea creativa vi leggo la domanda direttamente dal post di YouTube intanto ringrazio Zodiac perché è sempre molto attento a queste cose e perché è un trader molto bravo, in realtà è un investitore molto bravo secondo me perché fa delle grandi operazioni allora intanto mi diceva ciao Mauro, mi rivolgo vabbè sì, mi sta prendendo in giro per il mio abbiamento dell'anno scorso video allora ormai leggendo i commenti insomma ho capito che sono un holder e sono qui per il lungo periodo però ho un dilemma allora mi dice che in sostanza ha investito su una serie di token che sono quelli degli exchange che io adoro ragazzi, Binance, OKX token, Yubi token che insomma io stesso ho insomma sono cresciuti tantissimo questi token nell'ultima fase rialzista delle altcoin e dice adesso non so come comportarmi, salgono ancora devo chiudere oppure no ragazzi allora questo è il dilemma dell'holder perché è un dilemma dell'holder? perché esattamente l'holder non sa cosa fare in queste determinate situazioni perché non sa cosa fare ragazzi? perché non è un trader? allora questo è il problema di fondo di questa situazione quindi se io sono un holder e non ho formazione in ambito di come si fa trading per esempio e di quello che è il modo di uscire da una posizione che ha avuto grandi profitti perché queste posizioni hanno avuto profitti per quasi il 100% quindi veramente alti ragazzi allora la domanda dell'holder è che faccio adesso? allora qual è il dilemma dell'holder? ve lo riassumo in maniera molto semplice l'holder non esce quando il mercato scende perché dice ok io sono un holder di lungo periodo non esco quando il mercato scende però ragazzi non esce neanche quando il mercato sale perché non lo sa fare questo è il problema l'holder non sa uscire dal mercato in sostanza non sa uscire né quando il mercato scende né quando il mercato sale inutile che ci prendiamo in giro perché l'unico modo di uscire per un holder è dire chiudo la posizione vado in take profit però poi ha la paura e dice ok io vado in take profit però sono un holder e un holder ragiona di lungo periodo e magari mi perdo un'altra fetta di profitti oppure dice io non chiudo perché ancora sale il mercato poi il mercato gli va contro perché fa magari una fase correttiva un ripensamento e a quel punto l'holder dice cavolo prima guadagnavo di più adesso guadagno di meno non tengo rimango con la mia posizione perché ho perso dai massimi io sono holder insomma si giustifica sempre così ragazzi è un gioco di natura emotiva un problema psicologico un dilemma che è il dilemma dell'holder però metteteci la citazione ragazzi Mauro Caimi citazione il dilemma dell'holder come si risolve il dilemma dell'holder è quello che ho pensato io di fare per dare alla community dei trader nel mercato crypto ma a tutti in generale ragazzi questa cosa vale per tutti i trader barra investitori come si fa a risolvere quello che ho pensato io si fa in una maniera abbastanza semplice da enunciare molto difficile da rendere propria avete presente quando bisogna far assorbire qualcosa dentro la nostra parte c'è il nostro schema intellettivo che è pieno di bias li sappiamo quando dobbiamo far assorbire alla nostra mente quello che è un concetto di natura emotiva ci mettiamo molto tempo quindi il concetto è semplice ve lo dirò tra pochi secondi ma poi l'assorbimento è difficile quindi ho pensato anche di fare un regalo a tutti relativamente a questa cosa e ve lo dirò alla fine del video allora come si fa a risolvere il dilemma dell'holder l'holder deve prendere coscienza di una cosa fondamentale la coperta è sempre corta adesso ragazzi eccolo qua allora questa è una coperta molto lunga in realtà perché l'ho presa Ikea e il classico verde English ragazzi è molto bella però ha una sembianza figa per fare questo esperimento ragazzi la coperta è corta la coperta nel trading è corta se la tiriamo da una parte si sposta dall'altra se la tiriamo da qui se ne va dall'altra parte questo è il dilemma dell'holder quindi in sostanza cosa voglio dire se voi continuate a stare sul mercato e non prendete il take profit aumentate il vostro rischio rischiate che il mercato vi va contro e perdete una parte di profitto che avete fatto cioè tiriamo la coperta da questo lato qui c'è il profitto e qui c'è il rischio ok quindi io aumento il rischio tolgo profitto se il mercato mi va contro ma se voglio rischiare di più e quindi voglio dire se il mercato poi mi fa più profitto e io sono uscito allora sai cosa faccio voglio rischiare bene allora aumentiamo il profitto possibile si riduce quest'altro lato e quindi ragazzi voi potete prendere più profitto quindi in sostanza si rinuncia all'eventuale nuovo profitto oppure si rinuncia a quello già maturato perché se il mercato vi va contro voi a un certo punto dovete uscire anche se non avete più il guadagno di prima questo è il problema quindi nell'un caso io rinuncio all'opportunità di fare nuovi profitti nel secondo caso rinuncio al guadagno che ho appena maturato e dico benissimo allora se io voglio lasciare la posizione devo accettare dentro la mia testa che questo guadagno che sto vedendo lo sto mettendo in pericolo e quindi se la posizione se il mercato inizia a perdere io non devo più preoccuparmi di aver guadagnato il 100% questa giornata ma alla fine uscirò con più 70 più 60 perché decido di abbandonare lasciare un pezzo della mia torta perché penso che il mercato continuerà a salire quindi se il mercato secondo me continuerà a salire io lascio un pezzo della mia torta lo dovete accettare ragazzi questo è il dilemma dell'holder se invece dico sono contento di quello che ho fatto mi sta bene così vendo i take profit chiudo la mia posizione a cosa rinunciate? rinunciate a un eventuale profitto ulteriore allora noi chiudiamo il mercato sale di un altro 50% voi avete rinunciato a quel 50% anche questa è una scelta ragazzi è la coperta ok? dove la tirate? da una parte è sempre corta c'è un modo per far sì che questo tipo di problematica possa venire un po' un po' di più gestita dal trader professionista da chi effettivamente magari vuole insomma dedicare un poco 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 di più di tempo a questo tipo di ragionamenti a questi tipi di materia sì questa cosa è possibile farla utilizzando dei piccoli trucchetti guardando il grafico ragazzi non sono cose estremamente difficili per un trader sono cose semplicissime per un holder sono cose che magari insomma dovete un po' guardare cioè cosa significa ragazzi l'holder si deve leggermente mutare in trader a forza obbligatoriamente se vuole rendere questo processo il più efficiente possibile cioè minimizzare i due lati della coperta qui c'è un altro ragazzi minimizzare i due lati della coperta se volete minimizzare questa cosa vi dovete trasformare leggermente in trader ci sono dei piccoli trucchi e quindi veniamo alla fine di questo video come facciamo a gestire questi piccoli trucchi il 18 ho detto giusto ragazzi il 18 febbraio prossimo alle ore 18 sul canale trading on Mauro Caimi in live e guardiamo una di queste coin che ha fatto più 100% probabilmente andremo a prendere Binance Coin andremo a guardare questa coin e diremo se io sono un holder su questa critto cosa devo fare quali sono questi due punti come rendo efficiente il mio sistema di uscita senza dover stare ore sui grafici senza dover conoscere manuali insomma vi darò delle piccole regolette dei piccoli trucchi per far sì che questa vostra decisione sia la più scientifica e la più corretta possibile per chi chiaramente non ha grandi aspettative non ha un bagaglio culturale statistico di trading insomma elevatissimo ragazzi è un regalo per tutta la mia community 18 febbraio in live alle ore 18 non mancate ragazzi e allora per questo video ci siamo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un mi piace se vi è piaciuta questa idea e soprattutto chi di voi è un holder che cosa fa quando è il momento di uscire è un argomento interessante scrivetelo nei commenti perché sono convinto che usciranno delle idee fantastiche e delle cose veramente interessanti va bene ragazzi ci vediamo venerdì col prossimo video ciao ciao